Allora, il costarguat è un tipo di gavotta bretone, ce ne sono molte, la più nota è la gavotta de montagne però il costarguat e altre danze simili si basano sempre sul passo di gavotte e questa qui ha una particolarità, la particolarità è la sosta sul 4 e 5. Allora, mi spiego, questa danza intanto la presa non è una no, quindi non c'è presa dei mignoli, c'è semplicemente che con il mio avambraccio vado sotto il gomito del vicino perché traino, cioè fate le piccole schiere, a volte magari una schiera può diventare anche lunghissima però sarebbe consigliabile per una maggiore dinamica che in sala ci fossero 3 o 4 leader che conducono i loro gruppi così naturalmente queste schiere si intersecano e creano, diciamo così, animassevole in sala. Adoperiamo due numerazioni per capirci meglio, la francese è monosyllabe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e però dopo vi spiego che io per memorizarla ho usato un altro tipo di numerazione in italiano che non arriva a 8 come sono esattamente i tempi della danza ma arriva a 7 perché ci mette una faugetta in mezzo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa è la base. Che cosa succede? 1, 2, 4, 5. Allora sono atterrato sul 4 ma con il 5 sto fermo lì e poi dopo 6, 7, 8. Vedete che i 6, 7 non sono altro che zà, zà. Il corpo rimane fermo come una candela, c'è solamente questo sfregamento, vi potete allenare a fare questo sfregamento diciamo così sul posto. Quindi il contatto in francese fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Io però con questa roba non riesco a contarla più di tanto. Mi sono inventato il conteggio italiano con 4 e 6, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7. Quella pausetta che c'è dopo il 4 sarebbe solo il 5 ma se ricontare la 8 io punto a 7 e faccio la pausetta dove si sta fermi che il quattro è il 5. e il 4 e il 5 vengono uniti. Basta con le chiacchiere, andiamo a ballare il costa ruota. Con bassina la musica. La musica. La musica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccola qua, la costa qua della Bretagna, molto bella. Grazie a tutti.